Il nostro movimento si prefigge di proteggere quella che è l'identità vera del popolo ligure perché noi ci dipingono un po' a parte tirchi avari ma anche burberi, gente chiusa, orsi, selvatici E invece? E invece basta che arriva uno e ci chiede una mano, tanto così Cosa fate? Lo mandiamo a fare un culo, ma che cazzo ti conosce? Questi sono i liguri Ma noi lo facciamo con tutti, senza distinzione di rasa, di religione politica E' un vaffanculo inclusivo Inclusivo, è ugualitario Ma noi non siamo qui per piangerci addosso Noi siamo qui per denunziare questa brutale invasione che stiamo subendo di proporzioni bibliche I barconi che arrivano Ma quali barconi? Sto parlando dei milanesi che arrivano da noi due weekend Stai parlando di noi, qui siamo a Milano, molti milanesi Io stesso vengo in Liguria spesso Bravo, faccio fatica Questi qui milanesi come voi che vengono da noi aiutati dalle ONG E quali ONG? Le organizzazioni non genovesi Ecco, ci sono le organizzazioni Arrivano sfidando le curve che noi abbiamo messo lì a posta per scoraggiarli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti